Halloween sta arrivando ed è uscito anche il nuovo aggiornamento di Brookhaven Però è molto simile a quello dell'anno scorso Ecco perché nel video di oggi abbiamo creato il nostro aggiornamento di Halloween su Brookhaven Beh però ci sono nuove macchine rispetto ad Halloween dell'anno scorso Beh allora cercheremo anche noi di mettere delle auto super Ok Polletto però prima prendiamo un po' di spunto Andiamo a vedere le peggiori copie di Brookhaven di Halloween Questo gioco creato dall'ex Bobbolone è molto simile all'aggiornamento di Brookhaven Addirittura c'è anche il cartello con la ricerca delle caramelle Sembra l'aggiornamento di Halloween di 2-3 anni fa Poi zio Bobby ha messo anche questa macchina di Halloween È proprio come quella di Brookhaven Solo che non si può guidare Ci sono anche delle case a tema di Halloween Beh sì però Polletto non è niente di speciale Beh a parte quel ragno gigante sopra gli alberi Invece questa è un'altra copia di Brookhaven Halloween Ma che diavolo sta succedendo a Brookhaven Da quello che sto capendo letteralmente in questa mappa possiamo distruggere tutto Oh no ho appena fatto esplodere il Brox Dinner Qualcuno ha appena lanciato un sasso contro la polletta Possiamo letteralmente distruggere tutto a Brookhaven Beh devo essere sincero questa versione di Halloween è davvero figa Ok Polletto adesso penso che possiamo creare il nostro Come prima cosa possiamo aggiungere delle zucche giganti Oppure possiamo mettere dei fantasmi spaventosi Oh mamma Polletto quella è la tovaglia di mia mamma Ma sei proprio stupida Polletta In un video di un aggiornamento di Halloween di 3 anni fa Possiamo vedere come i colori dello spawn erano completamente diversi Beh ora stiamo cambiando i colori dello spawn e stiamo mettendo qualcosa di molto simile Già sta iniziando a prendere forma ed abbiamo cambiato anche il colore dei vasi e della fontana di Brookhaven Wow Polletto è bellissimo quel colore giallo Polletta ma dove lo vedi il giallo? Ah è vero scusa Polletto è che ci vedo un po' male ultimamente Abbiamo cambiato anche il colore di questi due alberi Proprio come nell'aggiornamento di 3 anni fa Ragazzi voi che ne pensate di questa prima parte? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti Nel frattempo che aggiungo altre cose fighissime Questi sono i commenti più belli che abbiamo ricevuto negli ultimi video Se anche tu vuoi apparire nei nostri video lascia un bel commento Questa è la nostra mappa di Brookhaven Possiamo vedere che abbiamo aggiunto un sacco di auto fighissime a tema di Halloween Alcune proprio come l'aggiornamento dell'anno scorso Poi ci sono queste luci terrificanti di Halloween E all'interno del grocery shop ci sarà questa commessa spaventosa Gli puzzano anche i piedi Ci sono delle scope che voleranno veramente Dei costumi di Halloween E non poteva mancare il cavaliere senza testa Con delle teste speciali di Halloween Ci saranno anche delle caramelle che possiamo collezionare In giro per la mappa Questi occhi terrificanti che ci seguiranno E poi abbiamo aggiunto delle case assurde Tutte da esplorare Inoltre dove c'è questa sfera spaziale Ci saranno delle navicelle che possiamo utilizzare Proprio come quella dell'ultimo aggiornamento Che vedete sul tetto della polizia Infatti ne abbiamo messa anche noi una Polletto sembra anche più bello di quello originale Però ragazzi in realtà non sappiamo se queste cose funzioneranno Beh allora è arrivato il momento di provarlo Questo è il nostro gioco di Halloween E appena entriamo ci sarà anche una musichetta tutta di Halloween Ehi aspetta ma quello chi è? Sembra essere un assassino di Halloween È letteralmente sparito Ah ogni tanto salta ma che figata Qui è anche pieno di veicoli super fighi Come questa macchina di Halloween Ehm polletto mi puoi aiutare? Oh no la polletta si è schiantata con la scopa Oh mamma questi occhi continuano a fissarci Sono davvero brutti Queste sono le altre macchine di Halloween E funzionano tutte Dove diavolo mi ha fatto sedere questa macchina polletta? Qui ci sono delle caramelle che possiamo collezionare Anche questa macchina di Halloween è spaventosa Ma guarda come drifta Peccato che le scope non sembrano funzionare Non partono proprio Questo è il grocery shop E questa sarebbe la commessa del grocery C'è anche un pulsante con scritto tra i miei Oh mamma mia Ma è terrificante Sembra la polletta quando ha fame Proviamo anche questa bellissima signorina Oh mamma Anche lei è molto spaventosa Queste sono le scope che purtroppo non funzionano Ma presto le aggiusteremo Qui ci sono degli outfit fighissimi che ci possiamo mettere Qui addirittura ci sono queste teste che possiamo metterci Ma che fighe Beh polletta così sei molto più bella Stupido non sei simpatico Qui ci sono delle navicelle spaziali che dovrebbero addirittura funzionare Stiamo letteralmente volando Ma è fighissimo però non so letteralmente come si guida Ah ok Oh mamma Ma che figata Wow stiamo volando sopra Brookhaven Con questa navicella spaziale Ma ora andiamo a vedere le case di Brookhaven Queste sono le case di Halloween di Brookhaven Ma in questa non ci si può neanche entrare In questo si però ed è molto figo È un castello di Halloween E anche qui c'è una caramellina Wow ma che figo È un vero e proprio castello Qui c'è questa casa terrificante È sparita nel nulla Oh mamma C'è anche un fantasma Wow fa davvero paura ragazzi E questa sarebbe la casa stregata Oh no Non aprire quella gabbia No Oh mamma Ha liberato letteralmente il demone No dobbiamo correre Altrimenti ci ucciderà Ma che diavolo si è letteralmente bloccato dentro la macchina Oh no 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 Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare E ce ne sono anche tanti altri di killer Devo subito andare a prendere la navicella No non funziona questa No 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 Sono caduto di sotto Mi sta per uccidere No ti prego Ah no polletto Mi dispiace Ma addirittura ha preso la macchina Oddio 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 Ma che diavolo sta succedendo qui Oh no mi ha preso Mi serve dell'acqua mi prego Spengetemi No mi ha ucciso Va bene ragazzi questo è stato l'aggiornamento di Brookhaven Halloween Ci sono tante altre cose che vogliamo aggiungere ma Per oggi dobbiamo terminare qui Ciao ragazzi